Allora, anche questo qua lo devi fare ad occhi chiusi, perché sennò avrete un indizio Buon day! Benvenuti in questo nuovo video. Lasciate già un bel mi piace E' Pasqua? No, però si sta avvicinando Quindi ho deciso di fare un video speciale per questa Pasqua Pasquale Commentate con hashtag Pasqua Pasquale Oggi faremo un video in format che già ho portato sul mio canale Non rompere la scatola sbagliata, non buttare la sacca sbagliata in mare Insomma ne ho fatti un po' Visto che è Pasqua, la mia mente geniale ha pensato Perché non fare, non rompere l'uovo di Pasqua sbagliato Quindi abbiamo qua le nostre uova, abbiamo qui le nostre uova di cioccolato Abbiamo qui le nostre uova Ancora? No, dite un'altra volta che non abbiamo capito Ok, l'avete vista le uova? Ci tengo a precisare che se nessun uovo verrà maltrattato Verranno maltrattate, perché queste uova verranno maltrattate Ma nessun uovo verrà sprecato Perché le mangeremo tutte Almeno io, le mangerò io Per quelli che hanno bisogno della spiegazione del video Il video consiste nel Io e mia sorella metteremo degli oggetti dentro le uova Ok, faremo un buco qui sotto Penserò io, scalderò in qualche modo Faremo un buco qui sotto Metteremo un oggetto di valore o no dentro le uova E poi a testa uno dovrà scegliere se spaccare un uovo o l'altro Ovviamente chi spacca quello che ho dentro l'oggetto Perde Siamo pronti? Eccoci, ecco siamo a fuoco Qua, allora abbiamo, ho buccato, rotto le uova in questo modo In modo tale che possiamo mettere l'oggetto Metterlo sul nostro piedistallo E non si vede quello che c'è all'interno Quindi, ragazzi, siamo pronti per sfasciare tutto Allora inizio io, quindi girati Mi raccomando, link delle felpe in descrizione Quelle con l'ananas e anche quelle che ho scritto Spettacolo Tutto in descrizione c'è il 5% di sconto Inizio mettendo questo oggetto Che è di mia sorella Importante, di valore E ecco qua Sì, ma che cavolo è sto rumore? Stanno ammazzando un animale? Vedi, quando devo registrare il video io Cioè, impazzescono tutti Pure gli animali Ma che cavolo è? Qui, come vedete, c'è l'oggetto Ora prendo un uovo Vuoto Tina, vieni pure Prego Allora, queste sono le due uova Spaccane uno l'altro Spaccare e spaccare con tutta la forza che hai Sei pronta? 3, 2, 1 È tutto tuo Vai, senza prenderlo in mano Spacca, spacca E via Non si è fatto nulla Non si è fatto nulla Non si è fatto nulla Tocca me Tocca me Tocca me Siccome questo appunto non ci sta Dentro Ma te lo voglio fare comunque Lo metto E tu devi romperlo anche chiusi Ok Voi l'altro anche chiusi? Eh sì Guidami Eh no, ma dai, guidami Allora, qua c'è un uovo Fa toccare Eh no Eh sì Ok, qua c'è un uovo E qua c'è l'altro Qua c'è l'altro Oh Ha caduto l'uavo Eccolo di qua E adesso? Adesso lo rimetto Aspetta Senti, li tengo sdraiati Ok Martina, non abbiamo tutto il pomeriggio Ah, zip Non mi dà Ah, c'è la cilice Dove? No, no, c'è la cilice Dove? Ah, che schifo Che schifo, dai, dai, Marti, dove? No, sentito È sull'uovo? No E allora lascialo stare Qual è l'uovo? È uscito dall'uovo Dove? Questo l'uovo? Quello è l'uovo e l'altro di là Io rompo questo, vado? No Vado? Cos'è? È plastico Aia Ho preso qualcosa? No Apri Sì Cosa c'è? Martina Allora, questo è un gioco Leva la cilice Dov'è? Lì È andato sul cioccolato No, 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 io non lo mangio quel robo Eh, non lo mangio mai Ok, la cilice è andata lì Martina, questo è un gioco Non devo rompere il telefono È nuovo Te lo devo... Guarda, è tutto spor... Ti devo ricordare che è nuovo? Guarda, è tutto pieno di cioccolato Ma sei proprio... Perfettire Eh, adesso... Sì, metti la telecamera al suo posto No, c'è la cilice qui No, lo buttate Eh, dove? Ok, ci siamo ragazzi Ok Allora, girati Siamo per arrivare quasi alla conclusione del video, eh Ok Adesso vi faccio vedere una cosa Allora, ragazzi, questo uovo l'ho bucato in questo modo Adesso lo riempirò d'acqua Così Sperando che lei lo becchi Si bagnerà tutta Allora, ci siamo, eh Ci siamo, eh Ci siamo, eh Perché ha paura? Allora, anche questo qua tu lo devi fare ad occhi chiusi Perché se no vedi un indizio Quindi girati Occhi chiusi No, se c'è la cilice Non c'è la cilice Ti pare che prendo la cilice con le mani? Si Allora, allora Qua c'è un uovo E qua c'è l'altro Quale scegli? Destra o sinistra? No, non ho sentito nessuno Eh, tu scegli destra o sinistra? Destra o sinistra? Destra Destra, perfetto Allora, è qua, eh Ce l'hai? No, non ho mira È qua, è qua Allora, visto che non hai mira Tienilo in mano Spaccatelo Spaccatelo Vai 3, 2, 1 No, no, cosa fai? Cosa fai? No, no, fai No, questo no No Finito di che ci riesco Allora, questo qua lo devi spaccare Finito di che ci riesco Se no, se no succede un casino Se no succede un casino Fidati di me Ti fidi di tuo fratello? No Questo prendi e spaccalo con le tette Via Così, sul petto Sul petto Ti Ma ti dicevo No, tu cosa fai? No, lo rompo con le mani Lo rompi con le mani Ma vicino a te Allora, aspetta Ti do una mano a romperlo No È qua È qua Lo senti? Lo senti? No È qua Martina Tieni gli occhi chiusi, eh Stai ballando Ok, dai, ok Non farciò cattivo Vieni qua Guarda, uno è qua E l'altro è qua Questo è quello che hai scelto No, si è rotto anche l'altro Incredibile Aia Ora divento aggressiva Oh, oh, oh Cali Mi torna a battagliere Chi pulirà tutto questo schifo? Io non ho di certo Il king dei prank Mamma mia Anche in un video normale come questo Sono riuscito a fare uno scherzo Benissimo Torna, torna in campo No, adesso basta Vi ho finito il video Io vi rimetto gli occhiali Mi rimetto gli occhiali Abbiamo finito il video L'ultimo, c'è l'ultimo Tutte le uova sono distrutte Questa è più o meno agibile Quindi la puoi mettere al contrario E questa anche, guarda Spaccato fuoco a metà Giusto, giusto Ve lo mettiamo così E tu puoi mettere un oggetto Io ora mi indico Perché mi gocciano i capelli Dimelo che ho la felpa bianca, dai Non ti metti che niente Ok, per sicurità Già per te arriva una scarpata in cuore Così La felpa collana Nessi scuro Stai zitto Hai fatto? Quasi Vai Occhi chiusi o occhi aperti? Chiusi Chiusi Guidami Allora, qual è? Destra o sinistra? Qua, sinistra Qua, destra Ok, spaccato fuoco a sinistra Eh, vabbè, ormai ho scelto M*****o Ti riprendo Si è sporcata anche tu Pochissimo Però adesso è sporcata Allora ragazzi Tira sullo schermo che io ho Allora ragazzi Questo video finisce qui Lasciate un Un bel mi piace Un commento con hashtag Buona Pasqua Con hashtag Martina non fa più video con Giuseppe perché ci va sempre a finire male qua No, vieni qua che dobbiamo concludere Buona Pasqua e anche Buon Natale Eh, boh, boh, hashtag buona Pasqua Hashtag buon Natale e hashtag Pasqua 2019 Che male, che male, mi hai fatto malissimo Mi hai fatto malissimo Teste mani Violente Sei violenta Mi ha tirato due caldi Ragazzi, allontanati Concludo io Concludo Ok Ragazzi, mi raccomando Un bel mi piace Commento Tutti gli hashtag che vi ho detto Commentate Metto il cuoricino a tutti Se siete nuovi iscritti Commentate con hashtag Anche il nuovo iscritto Iscrivetevi al canale Ci vediamo con un prossimo video Seguiteci su Instagram Vi lascio i nomi In descrizione trovate sia il nickname di Instagram Che Il link per acquistare le felpe Ciao belli